Erano senza corde, al freddo, a quasi 3.000 metri di quota. Due alpinisti di Como e di Milano, bloccati sulla cresta corte alla punta Skais a 2.900 metri sulle Alpi Eorobie Valtellinesi nel territorio di Piateda, in provincia di Sondrio, hanno lanciato l'allarme ieri sera. Non riuscivano più a scendere a valle e il buio avanzava. Le squadre del soccorso alpino della settima delegazione di Valtellina e Valchiavenna e sei militari specializzati della Guardia di Finanza, attorno alle 2 di notte sono riuscite a raggiungere il primo alpinista bloccato sulle lingue del ghiacciaio e poco dopo il compagno sulle rocce alla base del nevaio. I due sono stati messi in sicurezza e portati fuori dal ghiacciaio. Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle 9. Operazioni tutt'altro che facili. Per trarre in salvo i due alpinisti, che stanno bene, i soccorritori hanno percorso una zona quasi verticale con un forte cambio di pendenza, costellata da crepacci e soggetta a numerose scariche di sassi e detriti rocciosi. Grazie. 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 Grazie.